Un nuovo lutto ha colpito la famiglia dei Pua. Pochi giorni dalla morte di Stefano Dorazio si è spento il padre di Tiziana Giardoni, moglie del batterista. Sui social Robby Facchinetti è stato il primo a dare l'annuncio della morte dell'uomo. Cara Tiziana, ancora una volta la vita ti sta mettendo alla prova con quest'ulteriore insopportabile dolore, ha scritto il cantante pubblicando uno scatto di Stefano e suo suocero e ancora che Dio ti aiuti a trovare la forza di sopportare anche la dolorosissima perdita del tuo amatissimo papà. Io, Giovanna e i miei figli ti siamo vicini con tutto il nostro affetto, ha concluso Facchinetti. Grazie a tutti.